Con il delegato sindaco Pitonio parliamo di questa iniziativa, abbiamo detto una iniziativa che anima la comunità. È un'iniziativa grazie alla provincia di Catania, questa sera con questo concerto vogliamo ricordare alla nostra amica Agata Barba Carlo perché questa parola era sempre presente qui al lavinaio e noi stasera vogliamo ricordare tutti quanti e sono felice di esserci questo concetto e che tutti i lavinalordi lo ricordiamo tutti quanti insieme. Grazie.